Sono reati riconducibili alla criminalità organizzata. Purtroppo a questo non corrisponde da parte delle vittime una presa di posizione, una denuncia e quindi una costituzione anche nei procedimenti penali quali parti offesa. Usure e distorsione, fenomeni tanto più odiosi quanto sotterranei, reati per i quali i dati a disposizione non riescono a restituire una fotografia realistica. Dall'entrata in vigore delle norme nazionali a sostegno delle vittime, la prefettura di Potenza ha trattato 53 procedimenti, di cui 17 per estorsione e 36 per usura. Nel Materano una sola denuncia per usura nel 2021 e nessuna l'anno scorso, 34 casi di estorsione nel 2021, 40 nel 2022. Vuole una presa di coscienza da parte del cittadino, è anche un fatto culturale. Il cittadino deve riappropriarsi della libertà personale. Proprio per sensibilizzare la comunità è stata istituita una giornata regionale sul tema, non a caso celebrata a Potenza nel luogo della cultura pubblica per eccellenza, l'università. Significa in buona sostanza sviluppare i temi del sovraindebitamento, ma anche mettere in condizione a chi è in difficoltà di poter accedere al credito nelle forme dovute. In Basilicata, anche grazie a un nuovo protocollo che coinvolge tutti gli attori e all'attivazione degli osservatori regionali e provinciali, la rete istituzionale è solida, unica strategia possibile per affrontare una criminalità organizzata apparentemente meno violenta, ma sempre più infiltrata negli strati sociali. Farà sempre meno ricorso alla violenza, ma fornirà a chiunque la voglia dei servizi illegali e quindi è necessario un richiamo etico, non bisogna fare scorciatoie, bisogna seguire la legalità. Una scelta, quella etica, che richiede consapevolezza e coraggio. A raccontarlo chi da vittima ha scelto la denuncia e poi la testimonianza. Il coraggio l'ho trovato perché sapevo di avere alle spalle le forze dell'ordine e soprattutto ho pensato che se non mi fossi opposto avrei iniziato una vita di sottomissione. Fare rete e camminare insieme significa questo.